ragazzi non lo so eh però guardate forse c'ho la faraona che vuol fare la chioccia avete visto come si gonfia ho anche paura che mi dia una beccata mi faccia anche male non so se sentite il casino che fanno le uova le abbiamo già tolte queste qua le vorrei togliere adesso non so se ha fatto nuovo cani ragazzi sei cattiva che botte che dà ragazzi quindi non so cosa fare alla fine mi sa che vuol fare la pioggia facciamola stare e che dire aspettiamo qualche giorno siccome che già due o tre giorni che avete qua qui ci abbiamo il cemano incrociato comunque sempre bello vabbè ragazzi che dire se vuole a far la chioccia ho sei uova sue guardate se allargo la mano ragazzi dai vi do appuntamento al prossimo video e vi trovo informato per quanto riguarda la faraona ma se la è o non lo è davvero una caccia ciao a tutti amici ciao 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 Grazie a tutti.